Un minuto di tutte le cose che i massoni tengono segrete, sulla puzzola. Partiamo subito col botto, Pepe dei Looney Tunes non è una puzzola. Davvero non voglio s'erradicare ogni vostra certezza, ma anche Fiore di Bambi non è una puzzola. Cruz, mi hai rovinato l'infanzia! Lo so. Questi due personaggi di cartoni animati americani sono moffette, mammiferi, che poco hanno a che vedere con le vere puzzole, mustelli di eurosiatici. Ma ormai nell'immaginario comune le moffette sono le puzzole. Maledetta Disney! Moffette e puzzole vengono spesso mescolate assieme perché entrambe possono secernere un liquido volatile malodorante. Il furetto è una sottospecie addomesticata della puzzola europea. Al nome scientifico Mustela puttorius si aggiunge quindi furo, che significa ladro, e deriva dal fatto che i furetti amino rubare e nascondere oggetti. La storia dice che il furetto sia stato addomesticato 2500 anni fa per essere utilizzato nella caccia al coniglio. Le puzzle infatti sono agguerrite e abili in macchine predatorie. E' finita invece in questo coccoloso modo. Alla prossima!